Bene, buonasera a tutti. Iniziamo la terza serata di questa settimana biblica e ci sono dei posti per cui invito chi è in piedi a sedersi in modo che possiamo iniziare. Ci chiediamo concretamente cosa significa che la Bibbia si ascolta e non si legge. Abbiamo fatto un'esperienza in queste serate. Abbiamo visto un concetto di sapienza molto stimolante, non la sapienza che rischia di sfociare nell'intellettualismo, ma la sapienza come saper stare dentro la vita, alle dinamiche esistenziali, la ricerca di un senso. È una sapienza che anche la persona più semplice di questo mondo può in qualche modo vivere. Ed è una sapienza con la quale noi ci vogliamo approcciare al testo biblico. Per farlo abbiamo bisogno di sensibilizzarci, di allenarci all'arte della contemplazione. Da qui la capacità di ascolto. Ecco allora questa bella intuizione di precedere le relazioni con un momento dedicato all'arte. L'arte come occasione di stare dentro la parola con l'atteggiamento di chi contempla. Allora senza dilungarmi, visto che i tempi sono stretti, dopo le due belle serate vissute con il professore Alessandro Giovanardi, questa sera abbiamo la fortuna di avere con noi il il professore Auro Panzetta che ci introduce ad alcune opere. Si sente? Si, bene. Non è questa ovviamente ma è questa. Abbiamo veramente pochi minuti, cercherò di non sforare perché altrimenti i tempi si contingentano male. Allora la cosa che vi faccio vedere stasera è uno straordinario sarcofago. Qualcuno di voi l'avrà visto perché è conservato nel museo del capitolo Vaticano. È stato scoperto nel XVI secolo, poi hanno ritrovato altri pezzi. Vi faccio vedere se si vede da lontano si vede poco. Comunque fidatevi di quello che vi dico. Magari poi andate a vedere in internet e ve lo riguardate perché è un pezzo straordinario. È un sarcofago che ha due registri con dieci scene, cinque e cinque. Vi faccio vedere subito per entrare come lo si può interpretare semplicemente guardando le scene. Partendo dalla sinistra di chi guarda, in alto, Sacrificio di Isacco. Ve le ho anche messe esplicitate. Cattura di Pietro. Tradizio legis cosa vuol dire? Era una modalità che nasceva dal mondo imperiale. L'ho intuita, no? È la legge che viene data da da Dio attraverso Gesù agli uomini. Vabbè, poi sarebbe altro da dire, ma andiamo avanti. La quarta scena è Gesù condotto da Pilato, quindi la cattura di Gesù, e l'ultima è Pilato che si lava le mani, quindi la condanna di Gesù. Sotto, strano, c'è Giobbe, sull'etamaio. Le scene nell'antichità, questo è del quarto secolo, no? Ma anche nelle catacombe c'è Giobbe, solo che nelle catacombe Giobbe è in genere solo. Qui compare con la moglie Sittis e un altro personaggio. Ne parliamo subito, appena finiamo di illustrare tutta la parte inferiore. Adamo ed Eva, l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, trionfale, e Daniele nella fossa dei leoni. Ultima scena, strana, rara, la cattura di Paolo. C'è chi ha detto che questo testo iconografico si potrebbe leggere anche usando, cercate di visualizzarla, questa immagine, la X. Cioè le scene dall'alto al basso potrebbero essere congiunte con una X. Stasera non ho il tempo di farvelo vedere perché è altro che dobbiamo dire, però tenete presente che la X non era la X, è una lettera greca, è la X. Sapete che i primi cristiani venivano anche chiamati gli adoratori della X, perché la X è l'iniziale del termine Christos. Sotto, appunto, Giobbe, Adamo e Eva, eccetera. Adesso io vi ho segnato cinque, anzi sei quadrattini, perché voi avete notato che ci sono nella parte inferiore delle nicchie con un timpano triangolare e un altro curvil, una semicalotta. Nello spazio tra la nicchia a triangolo e quella a calotta, cerco di esprimere in maniera non specialistica, così capiscono tutti, ci sono per quanto rovinatissime sei scene interessanti che vi cito subito. La prima, sempre da sinistra a destra, fidatevi perché qui non riuscite a vedere, ma neanche fossimo vicini al monumento, lo vedremo, perché sono molto rovinate, sono state interpretate però in questo modo. I tre salvati dalla fornace, il libro di Daniele. La rupe toccata da Mosè, l'acqua che sgorga. Vi rendete conto, vero, che mentre ne parlo sono tutti elementi salvifici legati a Cristo, cioè hanno un'allusione cristologica perché partano da tipi dell'Antico e del Nuovo Testamento che possono essere allusivi della salvezza e dell'economia della salvezza nel mondo cristiano. Sono come dei fumetti, non è narrativo, avete notato, sono uno opposto all'altro, sono giusti apposti. Guardate, stavamo dicendo appunto, la seconda che ci interesserà molto perché Giobbe è lì, è quella della rupe e dell'acqua che ne sgorga, poi c'è Gesù che riceve il battesimo, il battesimo Gesù al Giordano, la moltiplicazione dei pani, elemento eucaristico, poi c'è se non sbaglio Lazzaro in fondo, Lazzaro che viene salvato e la risoluzione di Lazzaro. Sono elementi che tornerebbero se uno volesse fare un discorso complesso e completo su questo sarcofago, ma noi ci fermiamo sull'immagine che ci interessa, quella di Giobbe. Qui ve la faccio vedere molto ingrandita, vicino abbiamo detto che c'è Adamo e Eva, perché è strano, è rappresentata anche la moglie, nel famoso gesto del turarsi il naso che si riferisce al passo biblico di Giobbe 19-17, cioè questi testi iconografici, in questo caso c'è una plastica musiva straordinaria di gusto greco, in una bottega romana peraltro, di una bellezza struggente per molti aspetti, poi non vi dico cosa c'è nei lati, ma se capitate a Roma andatelo a vedere, come potete andare a vedere altri sarcofago, ma questo è straordinario per la perfezione del lavoro. Bene, e c'è un personaggio dietro e Giobbe che è sempre rappresentato così, seminudo, con la tunica esomida, cioè che lascia scoperta una spalla, seduto sull'etamaio, mostra le ginocchia perché le ginocchia sono ferite e piegate. E il passo citato è quello in cui si dice alitum meum exorbit, cioè mia moglie è colpita, è ripugnata dal mio alito, cioè dalla puzza delle mie carni, bisogna dire quel che è. E il passo continua dicendo e anche i miei figli, i figli del mio ventre, rabbrividiscono, hanno ribrezzo del mio corpo. Ma è strano perché Giobbe è l'unico elemento nell'arte paleocristiana del sofferente, non ce ne sono altri, gli altri sono tutti salvifici, cioè sono colti nel momento di salvazione. Questo è l'unico colto nel momento di sofferenza, tanto che la moglie, sapete che in Giobbe 2 è quella che dirà perché non bestemmi Dio, guarda come ti ha ridotto, muori, almeno ti togli dal problema, no? È la moglie che lo insidia, tanto che per Agostino, per Ambrogio, per tanti padri della chiesa, la moglie diventa, ahimè, la donna diventa in questo caso, ma lì c'è una cultura di altro tipo, lo capite bene, ma diventa sinonimo della tentazione, della tentazione diabolica. Guardiamo adesso brevemente, abbiamo quasi concluso, se riesco a stare nei tempi sono veramente bravo, cosa che non mi riesce facilmente, allora vedete quello che vi ho segnato? C'è una stranezza in questa rappresentazione perché il testo non ne parla, eppure è presente, cioè la moglie, qui non lo vedete bene, ma dopo vi faccio rivedere l'immagine grafica che vi ho fatto vedere prima di questa dove si vedevano bene le scene, la moglie, come in altri sarcofagi, pone su un bastone un tozzo di pane. Non c'è nel testo canonico, cioè nel testo di Giobbe, non esiste. Da dove lo prendono? Lo prendono da un testo apocrifo che è il testamento di Giobbe, un testo apocrifo, apocrifo, scusatemi, di aria giudaica, cioè non canonico. Questo vi fa capire cosa vuol dire in quest'epoca l'arte paleocristiana e cosa vuol dire in genere studiare le simbologie, le allegorie di questo tipo di manufatti. Non si può fermarsi al testo scritturistico, occorre guardare altri testi, in questo caso questi apocrifi, i testi dei padri, cioè gli esegeti, perché allora si capisce come mai lei, Sittis, ha un turbante sul capo. Non è possibile in quest'epoca rappresentare una donna in questo modo, con i capelli chiusi da un turbante, ne escono solo alcuni ricci. Si vede bene qui, cioè non si vede perché è tagliata, ma di fatto da questo piccolo turbante escono dei ricci. Perché? Perché ancora una volta nel famoso testamento di Giobbe, che è un apocrifo, viene detto che lei, nella sventura della casa del marito, pur di dargli da mangiare e di sostenerlo e di sostentarlo, cosa fa? Vende i ricci dei suoi capelli. Ma nella traduzione del testo il mercante che le chiede di farlo rappresenta, secondo l'interpretazione esegetica, allusivamente Satana, che la tenta per mettere in crisi poi il marito, visto che la costringe a questo. Il personaggio rappresentato dietro è stato sempre interpretato come, persino in educa, la parte per il tutto, rappresentante dei tre amici che arrivano, ma secondo alcuni invece sarebbe proprio quel mercante famoso, cioè rappresenterebbe l'allusione diabolica. Per concludere, vi faccio notare quello che prima vi ho solo citato, cioè la relazione tra l'immagine e le altre immagini, con un significato inevitabilmente risorgivo e salvifico. Perché? Perché in Giobbe 19, 23, 27, soprattutto nel versetto 27, nella tradizione della Vulgata e anche nella Vetus, e il passo era tradotto diversamente. Cioè c'era una citazione reale, precisa, diretta quasi, alla risurrezione. Per cui Giobbe non è solo simbolo della pazienza nella sofferenza, questo è il primo dato, la pazienza nella sofferenza che viene benedetta e ripagata da Dio. Questo è il primo dato. Della fede incrollabile, secondo dato. Ricordatevi che è un sarcofago. C'è dentro un personaggio importantissimo di Roma, un prefetto urbico, morto a 42 anni, che ricevette il battesimo probabilmente in punto di morte, come era all'epoca comune fare perché si ritardava il battesimo in modo da non avere più problemi, tra virgolette, nella vita, nella prassi morale della propria vita, capite? Quindi il titolo sarebbe Un neofita va in paradiso, però capite che il sarcofago è fatto, perché questo personaggio è importante, ma traduce, e qui ve lo faccio vedere per concludere, questa è l'immagine che prima volevo farvi vedere per enfatizzare da un'altra angolazione Giobbe, ma traduce il significato complessivo di questa facciata di sarcofago, che è un significato legato al trionfo di Cristo, ecco perché le due immagini, Cristo seduto come un imperator che dà la legge a Paolo e Pietro sotto il suo ingresso triunfale, sono due elementi triunfali, vedete, mentre gli altri no, però di fatto tutti collaborano a dire che la speranza cristiana è certa, che la fede è indistruttibile, che l'esito è compiuto attraverso Cristo e sarà un esito di pace. Quindi ci sono elementi legati al dolore, ma anche ovviamente alla speranza risorgiva. L'ultima nota, ultima, penso di essere stato nei tempi, nonostante le cose da dire fossero tanti. Vi ricordate cosa vi ho detto di quei piccoli, minuti, elementi tra l'archivolto e i timpano? Questo qui praticamente, vi ricordate, vi dissi, quei quadrattini rossi? Quello che vi cito è il secondo, partendo dalla vostra sinistra, è quello della rupe toccata dal bastone di Mosè e dunque l'acqua che ne sgorga, simbolo del battesimo, simbolo risorgivo, simbolo di speranza anche qui, per il nostro futuro dopo la morte, una volta che la sfragisca il sigillo del battesimo ci è stato imposto. Ecco, siccome da lontano non si vedeva, ve la faccio vedere in enfasi, perché nonostante tutto si percepisce proprio una colata d'acqua, è molto rovinato, ma si percepisce quello che vi ho detto a voce, cioè la rupe e l'acqua che ne esce. Guardate che, nonostante l'epoca, perché noi abbiamo una concezione a volte un poco illuministica della storia, per cui il passato ci sembra sempre meno completo, interessante, acculturato, alfabetizzato del nostro, ma qui c'è una sofisticata teologia della salvezza. Grazie. Grazie, Auro, sempre bravissimo. Quando uno riesce a vedere cosa c'è in quel quadratino rosso è contemplazione a tutti gli effetti. Bravo davvero. Bene, a proposito del libro di Job, breve cenno introduttivo, un anno fa mi trovavo con degli adolescenti a parlare di Bibbia e alla fine dell'incontro un ragazzo si è avvicinato, con un tono confidenziale, lamentando che quei brani potevano essere interessanti a livello culturale, ma centravano poco con la sua vita, o perlomeno non riusciva a immedesimarsi. Così mi ha chiesto un suggerimento. Io, profondamente illuminato, gli ho detto fai una cosa, leggiti il libro di Job. Oggi, a distanza di un anno, non so dove sia questo giovane, ma in parrocchia non viene più. Dobbiamo però riconoscere che obiettivamente il libro di Job è così. Sicuramente più di altri, ben prima di ogni possibile sforzo di comprensione, io credo che a tutti venga in mente di immedesimarsi in questo personaggio. Ognuno con la sua singola storia, ognuno con le sue vicende personali, però credo che ci sia una sorta di immedesimazione da dire a lui è capitato così, mi ritrovo perché a me è capitato, sta capitando questo. Ecco, pertanto ritengo estremamente affascinante e anche arricchente soffermarsi su questo libro. E riprendendo alcuni passaggi, siamo stati aiutati a entrarci dentro. Nella prima serata col prof Luca Mazinghi, che riflettendo sulla sofferenza di questo uomo innocente, ci invitava a spostare l'attenzione, come se non ci fosse solo il dilemma che dà molto fastidio della presenza della sofferenza e del male nella vita, che rimane un dilemma assolutamente presente. Ma ci diceva il prof Mazinghi di leggere il libro di Zobbe come una questione su Dio, come una riflessione su Dio, sulla sua esistenza, sulla sua presenza e sulla relazione con l'uomo. Ecco, nella seconda serata la professoressa Laila Lucci ci ha aiutato a rileggere il dialogo con gli amici, andando ancora più a fondo sulla questione di Dio, attraverso la domanda dalla parte opposta, cioè Dio si rivela, ma c'è l'uomo che si mette in ricerca e in ascolto. E ci siamo chiesti qual è la religiosità degli uomini, qual è il nostro approccio a questa relazione. E abbiamo visto, attraverso le risposte degli amici, alcuni tipi di sapienza, alcune forme di religiosità. Ancora più a fondo è venuto fuori un concetto molto interessante, quello della giustizia retributiva, concetto che la Laila ha sollevato, ha stuzzicato la nostra curiosità e che è rimasto aperto fino a questa sera. Cioè, se la sofferenza del giusto non è legata al suo peccato, alla sua condotta, alla sua vita morale, come la comprendiamo? Cioè, qual è il paradigma con cui noi possiamo leggere il rapporto tra Dio e l'uomo? Sono domande aperte, domande che ci sono rimaste lì, un po' in sospeso. Ecco, arriviamo allora finalmente alla terza serata, dove abbiamo passato l'attenzione sull'innocente, Giobbe che soffre. Abbiamo visto il dialogo con gli amici, le sapienze e le forme di religiosità. Questa sera noi ci mettiamo in ascolto della risposta di Dio. E non è una risposta che accettiamo con leggerezza o con superficialità. Tanto è grave il dilemma, la sofferenza e il male, quanto è profondo il nostro desiderio di una risposta di senso. Ecco, allora, ricupro solo una citazione del prof Luca Mazinghi e poi lascio lo spazio alla relazione. Tra le tante cose dette, a un certo punto cita Epicuro, non riprendo tutto il pensiero perché è lungo, però sta di fatto che Dio può e vuole fermare il male. E quindi Epicuro conclude dicendo, se può e vuole, perché il male c'è? Viene da pensare, non è che Dio non sia interessato all'uomo? Ecco, allora, con tutte queste domande, con questi dubbi, davanti alla questione della prova del male, la sofferenza, le sapienze a confronto, nel tentativo umano di rispondere alla nostra curiosità che chiama in causa l'agire di Dio, ecco, il terreno incomincia a farsi insidioso, la faccenda un pochino complicata, per cui, sul commento della risposta di Dio, mi sembra opportuno lasciare la parola a Don Sebastiano Pinto. Don Sebastiano, relatore di questa sera, è prete della diocesi di Brindisi-Ostuni, ha una grande preparazione accademica, è un dottorato in Sacra Scrittura al Pontificio Istituto Biblico di Roma, è docente stabile associato presso la Facoltà Teologica Pugliese, in Esegesi e Teologia dell'Antico Testamento, e, ancora di più, fatto, a mio avviso, estremamente interessante, ha una laurea anche in Sociologia. Questa attenzione alla teologia, alle scienze umane, alla rivelazione di Dio, e, dall'altra parte, al cuore dell'uomo, credo che sia una carta estremamente vincente, perché dà idea di una mente da studioso e, dall'altra parte, un cuore da pastore. Credo che sia la formula migliore per poter indagare a fondo il libro di Zobbe. Ecco, allora, lascio la parola a Don Sebastiano. Grazie per aver detto sì all'invito. Partiamo, come le altre serate, con la lettura del libro di Zobbe. Dal libro di Zobbe Il Signore prese a dire a Zobbe, in mezzo all'uragano, Chi è mai costui che oscura il mio piano con discorsi da ignorante? Cingiti i fianchi come un prode, io ti interrogerò e tu mi istruirai. Quando ponevo le fondamenta della terra, tu dove eri? Dimmelo, se sei tanto intelligente. Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai? O chi ha teso su di essa la corda per misurare? Dove sono fissate le sue basi? O chi ha posto la sua pietra angolare, mentre gioivano in coro le stelle del mattino e acclamavano tutti i figli di Dio? Chi ha chiuso tra due porte il mare quando usciva impetuoso dal seno materno, quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura, quando gli ho fissato un limite e gli ho messo chiavistello e due porte, dicendo, fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde? Da quando vivi hai mai comandato al mattino e assegnato il posto all'aurora perché afferri la terra per i lembi e ne scuota via i malvagi, ed essa prenda forma come creta premuta da sigillo e si tinga come un vestito e si è negata ai malvagi la loro luce e si è spezzato il braccio che si alza a colpire. Sei mai giunto alle sorgenti del mare e del fondo dell'abisso hai tu passeggiato? Ti sono state svelate le porte della morte e hai visto le porte dell'ombra tenebrosa? Hai tu considerato quanto si estende la terra? Dillo se sai tutto questo. Buonasera innanzitutto saluto al Vescovo, a Don Davide, a Stefania per l'invito al Presidente dell'Azione Cattolica che ha fatto una presentazione elogiativa mi devo ricordare di offrirti un caffè prima di andare via perché sei stato davvero gentile. Io se permettete parlo in piedi mi farò aiutare da una proiezione da un power point possiamo passare le luci Stefania? Grazie Stefania è efficientissima vedo è preparatissima Io riprendo velocemente qualche passaggio delle sere precedenti questo dipinto già lo conoscete e mi piace richiamarlo ogni volta che ne parlo che parlo di Giobbe e mi introduco perché questa figura della moglie di Giobbe è davvero curiosa e vedo che ha ispirato nei secoli davvero tante rappresentazioni con tanti significati Giobbe è piccolo piccolo almeno in questa rappresentazione mi richiamo in questa piccola introduzione a Giobbe per poi andare nello specifico a una constatazione che è sempre vera secondo me e cioè la constatazione di San Girolamo che conoscete bene come citazione cioè San Girolamo davvero dice che cercare di spiegare Giobbe è come tentare di tenere nelle mani un'anguilla o una piccola murena più forte la si preme più velocemente sfugge di mano io per quanto mi riguarda questa frase è verissima perché anche quando uno dopo tanto tempo dopo tanti anni anche se vogliamo dopo qualche studio qualche libro letto su Giobbe pensa di aver capito qualcosa su Giobbe e non basta c'è sempre qualcos'altro che si può dire c'è sempre una sfumatura che era sfuggita o ascoltando altre riflessioni e ci sono tante cose che possono essere ancora colte questo mi pare non vero ma verissimo per Giobbe detto questo ecco richiamo il piano del libro per evidenziare la parte che mi interessa voi sapete che c'è una cornice letteraria del libro c'è un prologo che è in prosa è probabilmente la parte più recente del libro il corpo invece è in poesia e con la serie dei capitoli 327 gli amici Giobbe questo ciclo di discorsi sostanzialmente un dialogo tra sordi perché ognuno porta avanti il suo discorso e due non si incrociano anzi quattro tre più uno cioè tre amici più Giobbe poi il capitolo 28 che segna quasi una cesura se vogliamo cioè né Giobbe né gli amici sanno dove è la sapienza la cercano ma ognuno ha un modo proprio capitolo 28 si interroga ma dove abita la sapienza l'uomo faber non può produrla non può scavarla l'uomo economicus non può contrattarla non può negoziarla solo l'uomo religioso che si lega al timore di Dio può capire dove abita la sapienza poi c'è il capitolo il capitolo 32-37 di Elihu che è un giovane saggio che sostanzialmente riprende con maggiore fervore i discorsi della sapienza degli amici ecco noi ci concentriamo su questi capitoli 38-42-1-6 cioè sulla risposta anzi sulle risposte di Dio a Giobbe sono capitoli non abbiamo letto solo un pezzettino molto belli e nel brano che abbiamo letto c'è molta ironia e cioè Dio che dice a Giobbe vediamo tu che hai detto al capitolo 31 sono le ultime parole di Giobbe Giobbe cita in giudizio Dio dice ecco la mia firma e mi rivesto di questo documento come un gibor come un guerriero come un prode Giobbe sfida Dio e Dio riprende ironicamente queste parole dice chi è costui che mi sta sfidando vediamo quasi lo sfida a singola artenzone sono testi molto belli allora questi capitoli la cornice in cui inseriamo la risposta di Giobbe è legato al genere letterario del libro per capire la risposta dobbiamo capire questo in maniera molto semplice probabilmente siamo in un tribunale o meglio possiamo immaginarci il libro di Giobbe come un dibattimento in cui c'è un accusato un accusatore c'è un giudice ovviamente il giudice Dio giudice Dio chi è l'accusatore è Satana il Satana non è il nostro diavolo è assolve la funzione di accusatore c'è l'articolo è più una funzione non è lontano magari da quello che poi diventerà la figura dell'accusatore però non è proprio quello quindi attenzione a non sovrapporci magari nelle interpretazioni sicuramente Satana un po' come il pubblico ministero si fa promotore di giustizia o meglio della colpevolezza dell'accusato che è Giobbe chiamato al banco degli imputati gli amici cosa fanno gli amici di Giobbe difendono l'onore di Dio quali sono le evidenze di colpevolezza le evidenze di colpevolezza sono legate al fatto che se Giobbe sta soffrendo una cosa una colpa l'ha commessa richiamo subito dopo fra un po' la teoria della retribuzione che è stata già richiamata la riprendo per poi cercare di capire un po' la risposta di Dio allora questa è una prima ipotesi di genere letterario se vogliamo funziona fino ai primi due capitoli dove Giobbe il paziente Giobbe ma come vi ha già detto Don Luca Mazzinghi troppo paziente non è il paziente Giobbe si trova a suo malgrado sul banco degli imputati qualcosa però cambia ecco perché Giobbe sfugge leggendo il libro dal capitolo 3 voi vi siete accorti anche in questi giorni che qualcosa non funziona cioè di fatti chi è sotto accusa è Dio è Dio Giobbe cioè rifiuta di essere l'accusato e si fa lui stesso accusatore di Dio che cosa accusa a Dio senza troppi giri è un Dio ingiusto non è un Dio che fa le cose come devono essere fatte è un Dio che potremmo anche accusarlo di bullismo è troppo forte è un Dio che non può competere con la creatura Giobbe ha dei passaggi molto belli su questo gli dice dice a Dio ma io sono fatto di carne e ossa non puoi pretendere da me chissà che cosa per questo vi ho messo sul foglio una citazione di Luisa Nonso Schekel Giobbe in questo dibattimento giudiziario cosa fa mette all'angolino Dio e Dio deve rispondere in qualche modo Luisa Nonso Schekel dice che così come si è giunti alla fine del libro è necessaria una risposta drammaticamente vi leggo il passaggio Dio deve parlare perché Giobbe lo ha sfidato a un duello verbale a questi livelli la neutralità di Dio è impossibile se non interviene ha fatto la dottrina degli amici rimane screditata poiché si può accusare Dio impunemente e Giobbe ne esce vincitore perché ha lasciato Dio senza parole la risposta di Dio cioè è necessaria Giobbe ha messo all'angolino Dio ho appena detto e se non risponde significa che Giobbe ha ragione perché può parlare contro Dio può bestemmiare senza che Dio faccia qualcosa nei confronti di questo bestemmiatore e quindi tutte le parole degli amici che fine hanno fatto in un modo o nell'altro se Dio non risponde Giobbe vince non so se mi sto spiegando però in questo schema giudiziario c'è un'ambiguità gli amici sono sempre i difensori dell'onore di Dio Dio è anche giudice cioè a chi Giobbe comunque si rivolge per ottenere una sentenza si rivolge a Dio quindi Dio è in questo duplice ruolo di giudice ma allo stesso tempo accusato da parte dell'accusatore che è Giobbe qual è l'accusa? è un Dio che non fa le cose per bene allora sul foglio un po' il titolo della mia relazione richiama una frase sempre in questo contesto giudiziale in cui che secondo me può essere la chiave di lettura del libro che è la frase di Satana forse che Giobbe teme Dio per nulla beh vi è diventato chiaro penso anche in questi giorni ma sicuramente anche in altre occasioni in cui avete letto il libro di Giobbe c'è un certo interesse va diciamocelo cioè Dio ha messo un po' sotto una campana di vetro Giobbe gli conviene essere giusto retto timorato di Dio e alieno dal male in questo ritornello che ritorna due volte nel capitolo nei primi due capitoli gli conviene essere giusti detto in altri termini magari parlando di noi è facile credere quando tutto va bene più difficile è credere quando le cose non vanno bene quindi la domanda di Giobbe di Satana è questo beh a Giobbe conviene temere Dio vediamo se togliendo questi beni Giobbe persevera in questa sua rettitudine ripeto questa frase secondo me è una frase che aiuta a capire il senso anche del libro o comunque di questo dibattito giudiziario un dibattito giudiziario che come dice la parola stesso ha a che fare con la giustizia e richiama velocemente questo concetto della retribuzione proprio velocemente perché è stato ripreso un concetto che richiama che cosa merito responsabilità e giustizia della serie sono responsabile dei miei atti mi merito la ricompensa per i miei atti sono buono mi aspetto il bene sono cattivo mi aspetto il male ora questa teoria che possiamo descrivere come una teoria azione e conseguenza si ispira a questa concezione secondo cui ad una determinata questa azione segue necessariamente una conseguenza corrispondente ciò che potrebbe essere considerato la ricompensa di un'azione o una condotta non è altro che la conseguenza necessaria e naturale dell'agire umana quindi mi comporto bene o il bene quali sono i beni nella Bibbia la salute la ricchezza i figli una vita lunga se io perdo i figli Giope perde i figli perde la salute perde i beni Giope è uno sventurato secondo la teoria della retribuzione significa che Giope ha commesso un peccato e questa bilancia ci aiuta a capire più grave è la malattia più grave è la colpa apro e chiudo una parentesi se ci pensate un attimo nel Nuovo Testamento si parla anche di questo nel Vangelo di Giovanni vi ricordate il cieco nato i discepoli dicono se non sbaglio al capitolo 9 i discepoli dicono di chi è la colpa sua o dei suoi genitori e Gesù risponde né sua né dei suoi genitori ma è così perché si manifesti la gloria di Dio addirittura la sofferenza diventa l'epifania di un progetto diverso giusto per aprire una parentesi però questo vale anche un po' per noi a livello esistenziale quando uno si trova a soffrire in maniera in maniera improvvisa e magari in maniera pesante uno si chiede che male ho fatto che colpa ho fatto questo per dire che questo concetto della retribuzione forse è scritto un po' nel nostro DNA ma qualcosa dirò alla fine allora questo concetto di retribuzione sicuramente è scritto nella Bibbia e cioè c'è una retribuzione teologica Dio è arbitro e interviene con assoluta libertà casticando e premiando il salterio si apre così beato è l'uomo che medita la legge del Signore che non siede in compagnia degli stolti sarà come un albero che produce frutto ma il Signore veglia sul camion dei giusti gli empi che fine fanno vanno in rovina quindi il salterio in questo portale si apre proprio con questi sentimenti una retribuzione che spesso è quasi automatica o antropica cioè è quasi scritto nell'universo quasi una regola il male prima o poi produce una sanzione se io semino il bene prima o poi avrò una ricompensa positiva Salmo 57 i cattivi hanno teso una rete ai miei piedi essi stessi li sono caduti quasi la legge le contrapassano allora questo questo concetto è davvero forte e la sapienza che cos'è è stato già spiegato è arte del vivere bene il saggio cosa fa cerca quest'arte cioè cerca di ritrovare delle regole perché uno possa avere delle delle indicazioni su come mettere i passi sulle cose buone da fare sul male da evitare ora questa lei questa legge della retribuzione regge in qualche modo l'universo legge regge i legami con dio regge le regole degli uomini quindi più che diciamo così disprezzarle in maniera quasi sbrigativa è una legge che ha una profonda sapienza e che si radica anche nelle attese degli uomini tuttavia questa legge non sempre funziona cioè presenta delle aporie quando quando con Giobbe e Coelet il giusto soffre e cioè quando la sofferenza non viene a sanzionare un mio comportamento sbagliato ma arriva come un temporale come un fulmine al cen sereno e mi sciocca mi distrugge mi stravolge l'universo non ho più regole che guidano la mia condotta vado in crisi insomma e Giobbe ecco esprime queste nel libro di Giobbe noi abbiamo queste reazioni la ribellione alla fine anche l'accettazione e l'affidamento la quarta reazione è quella che troviamo nel libro della sapienza cioè si sposta la retribuzione nell'orizzonte ultraterreno le anime dei giusti sono nelle mani di Dio anche se soffrono sulla terra Dio le compenserà nell'aldilà con il libro di Giobbe invece siamo ancora nell'aldiquà quindi questa teoria della retribuzione segna la condotta degli uomini le attese segna la sapienza soprattutto la sapienza classica la sapienza critica quella di Giobbe torno a dire e anche di Coelet invita invece a porre qualche domanda in più cosa non sta funzionando in questa bilancia secondo Giobbe ciò che non funziona è Dio cioè è l'arbitro perché lui ha consapevolezza di essere giusto si comporta in maniera giusta però viene retribuito in maniera sbagliata chi sta sbagliando chi è il bullo della situazione è evidentemente Dio ora le risposte di Dio a Giobbe dunque che danno in qualche modo un happy end possiamo dire così al libro preparano l'happy end vertono su che cosa come abbiamo ascoltato sul sapere e sul potere e cioè Giobbe si deve mettere poco poco da parte e deve aprirsi un po' a che cosa ad una visione del mondo che è diversa rispetto a quello che lui aveva immaginato possiamo dire così che ieri come oggi e questo vale anche per Giobbe quando uno soffre tende a ingigantire la propria sofferenza e a fare della propria sofferenza l'unico punto di riferimento io dico sempre che quando uno soffre la tentazione è quella di guardarsi l'ombelico cioè ripiegarsi su se stesso e non vedere altro che se stesso allora Giobbe è talmente giusto che si monta la testa detto così cioè talmente convinto delle sue ragioni che alla fine non vede altro che se stesso e la sua sofferenza ci sono dei passaggi molto simpatici se vogliamo carichi di tragedia nella lettura però molto molto particolari dice Giobbe che se si potesse pesare tutta la sabbia di questo mondo la mia sofferenza sarebbe più pesante esagerato esagerato però quando uno soffre iperbolicamente tende ad esagerare tende ad esagerare quindi Giobbe si deve mettere un po' da parte anche perché Giobbe non sa come funziona il mondo e anche qualora dovesse arrivare a capire le regole che reggono l'universo torno su questo lui non può spostare una virgola piccolo piccolo rispetto all'universo la risposta di Dio come vi scrivo sul foglio è globale cioè tende a ricollocare Giobbe all'interno di un progetto che è più grande di Giobbe che cosa non ha funzionato che cosa non sta funzionando perché il dialogo con gli amici è un discorso tra sordi è un discorso tra sordi perché è diventata una questione da trattare a tavolino detto in maniera negativa una teologia come dire molto da tavolino quasi preconfezionata un kit teologico di pronto soccorso che evidentemente può dare qualche risposta immediata ma poi la patologia va vista va curata in maniera più approfondita e cioè è diventata una questione quasi filosofica del bene contro il male degli angeli contro i demoni dei buoni contro i cattivi insomma noi siamo bravi a fare queste contrapposizioni e lungo i secoli il problema della teodicea cioè il problema filosofico della giustizia di Dio con tutte le prove che si è cercato di trovare per giustificare Dio dalla sua condotta perché la domanda è se Dio è buono perché c'è il male questa è la domanda e quindi arrampicarsi sugli specchi per cercare di dare risposte risposte che non lasciavano e non lasciano molto anzi aprivano più domande rispetto a quelle che a cui si voleva rispondere per cui detto in altri termini non si può parlare della sofferenza del giusto rimanendo alla finestra è facile per gli amici parlare della sofferenza degli altri come potrebbe essere facile per noi parlare della sofferenza degli altri e dire bravo il Signore ti ha premiato perché ti ha dato questa malattia attenzione non lo fate mai sto esagerando perché la reazione potrebbe essere molto negativa verso chi proferisce queste parole ma uno potrebbe dire tienetelo per te questo Dio che mi ha dato questo regalo perché io non lo volevo stavo bene prima se siamo onesti un po' equilibrati di mente la sofferenza non è un bene quindi se siamo onesti uno cerca di ridire se vogliamo le parole di Gesù se è possibile passi questo calice poi facciamo rientrare la sofferenza in un discorso più grande ecco il valore salvifico della sofferenza il brano di Giovanni che vi richiamavo del cieco nato allora questa sofferenza si apre a risonanze diverse addirittura un valore medicinale ma questo è un punto di arrivo allora che cosa non sta funzionando qui Giobbe o meglio gli amici di Giobbe fanno un discorso un po' imparato su Dio Giobbe e gli amici io dico sempre gli studenti sono compagni di banco hanno studiato insieme la stessa teologia solo che i primi sono in salute Giobbe cambia la sua teologia perché soffre solo che entrambi portano avanti la stessa visione di Dio tutti e due tutte e due le parti vogliono un Dio retributore è qui che c'è un gap è qui che c'è un cortocircuito qui qualcosa non funziona perché questo automatismo non funziona allora non è ponendosi solo come dire alla finestra la questione perché gli altri soffrono gli amici quando incominciano a proferire parole sbagliano l'atteggiamento sapiente degli amici è quello del secondo capitolo quando arrivano vedono Giobbe che soffre e con loro con Giobbe fanno silenzio allora la sapienza come arte del vivere bene significa fare la cosa giusta al momento giusto è sapienza stare zitti e stoltezza fare un discorso su Dio che alla fine non rende ragione a Dio gli amici vogliono difendere l'onore di Dio e cosa fanno per fare questo? buttano a mare Giobbe lo colpevolizzano entrambi sbagliano allora che cosa si deve fare strada nella visione di Giobbe e quindi del libro l'immagine o meglio si deve fare strada l'idea deve maturare che cosa? la relazione meglio con il Dio creatore ecco il brano che abbiamo letto all'inizio il Dio di cui parla Giobbe è un Dio un po' lontano è un Dio a cui lui dà del lei Giobbe quando parla di Dio parla di Dio in terza persona solo alla fine dice i miei occhi ti vedono quindi la questione di Giobbe è veramente teologica cosa fa questo Dio creatore? è un Dio che include nel progetto della creazione tutti anche gli animali ecco perché dicevo una risposta globale negli ultimi capitoli del libro leggo si legge sì anche in fondo vengono menzionate dieci specie di animali sei terrestri camoscio cervo asino selvatico bufalo cavallo cinque volatili ibis, gallo, struzzo, sperviero, aquila e due acquatiche l'ippopotamo e il leviatano probabilmente il coccodrillo il senso complessivo si ricava dall'insistenza sulle attitudini legate a te agli animali che sono spesso associati a ciò che è selvaggio impuro sterile abitano nel deserto e caotico allora Giobbe vuol far da maestro addio perché metta ordine la sofferenza ha creato disordine nella sua vita Giobbe deve capire che il mondo va avanti lo stesso e come glielo fa capire Dio raccontando la creazione all'interno di questa creazione ci sono forze caotiche che Dio controlla dove Giobbe vede solo disordine la risposta di Dio invita ad allargare la propria prospettiva e inserire anche quel disordine della sofferenza di Giobbe all'interno di un cosmo che rimane ordinato due esempi primo esempio è quello della behemoth la bestia che è descritto sostanzialmente come l'ippopotamo è un nemale terribile cosa fa l'ippopotamo dice Giobbe ecco la bestia che io ho creato o meglio dice Dio che io ho creato al pari di te si nutre di erva come il bue guarda la sua forza nei fianchi e il suo vigore nel ventre i nervi delle sue cosce si intrecciano saldi le sue vertebre sono tubi di bronzo le sue ossa come spranghe di ferro essa è la prima delle opere di Dio solo il suo creatore può minacciarla con la spada ho detto che la risposta di Dio è sul sapere sul potere Giobbe non sa e non può Dio sa e può gli portano in cibo i prodotti dei monti mentre tutte le bestie della campagna si trastullano attorno a lui sotto le piante di loto si sdraia nel folto del canneto e della palude lo ricoprono d'ombra le piante di loto lo circondano i salici del torrente ecco se il fiume si ingrossa egli non si agita anche se Giordano gli salisse fino alla bocca resta calmo chi mai può afferrarlo per gli occhi o forargli le narici come un uncino rizza la coda come un cedro allora il senso di questa immagine qual è che in realtà viene descritto quasi e qui il linguaggio biblico esagera quasi come un dinosauro perché se si deve prendere sul serio che c'è la coda come un cedro potrebbe assomigliare a uno di questi animali insomma qual è il senso complessivo il senso complessivo è che il behemoth l'ippopotamo per quanto terrificante e unico nel suo genere è solo una delle creature che rischiscono il variegato cosmo voluto da Dio e cioè anche nelle forze caotiche behemoth ora vedremo il Leviathan c'è un progetto di Dio che Giobbe non comprende prima lezione Giobbe non sa questo non sa che Dio contempla un cosmo al di là del suo piccolo microcosmo allora la risposta che richiama gli animali e qui richiamiamo il Leviatano il coccodrillo aiuta Giobbe a scoprire la sua creaturalità la sofferenza ha ingigantito la prospettiva di Giobbe deve fare un passo di lato per fare spazio ad una visione nuova a cui lui stesso si deve aprire secondo animale poi mi avvio quasi alla conclusione non passerò sotto silenzio dice Dio scusate la forza delle sue membra nella sua potenza nella sua imponente struttura chi mai ha aperto il manto della pelle e nella sua doppia corazza chi è penetrato chi mai ha aperto i battenti della sua bocca attorno ai suoi denti terrificanti il suo dorso è formato da file di squame saldate con tenaci sugello l'una è così unita all'altra che l'aria fra di esse non passa ciascuna aderisce a quella vicina sono compatte non possono staccarsi insomma si sta riscrivendo la pelle le scaglie del del leviatano o coccodrillo cioè anche qui una forza caotica che Dio domina il messaggio biblico su coccodrillo rimane pur nelle risonanze caotiche che evoca sostanzialmente positivo anche l'animale più terribile gioca un suo ruolo all'interno del progetto del creatore per cui nulla è stato voluto per caso neppure ciò che l'uomo spazzerebbe via senza troppi scrupoli allora proviamo a tirare qualche conclusione chi è il Dio di Giobbe perché questo è il Dio della risposta cioè ciò che Dio dice di sé a Giobbe un Dio creatore un Dio salvatore qual è il Dio di Giobbe allora sapete che nella Bibbia ci sono più nomi di Dio uno di questi è Elohim che potrebbe significare anche gli Elohim sono gli dei pagani gli Acherim Elohim gli altri dei il primo racconto della creazione Dio viene chiamato Elohim vi ricordate allora chi è il Dio di Giobbe spesso viene chiamato Elohim ma altri nomi di Dio è l'Elyon è l'Olam Dio Eterno nel libro di Giobbe viene chiamato Dio è il Shaddai che troviamo in Genesi 17 Abram aveva 99 anni quando il Signore gli apparve gli disse io sono El Shaddai Dio delle montagne o Dio Onnipotente viene tradotto El Shaddai e c'è un Dio che sta lontano che sta in alto io ho detto che Giobbe dà del lei a Dio si rivolge in terza persona beh questo fa la differenza non è un caso che nelle ricorrenze di El Shaddai 48 attestazioni in tutto l'Antico Testamento 31 sono nel libro di Giobbe allora il problema è teologico chi è il Dio di Giobbe non è proprio il Dio creatore non è come dire Yahweh sembra essere un Dio contabile anzi Giobbe vuole questo questo è un geoglifico classico della pesatura del cuore se il cuore pesa quanto la piuma la Dea Maat allora si può continuare il viaggio nell'aldilà allora questo Dio che pesa ecco un motivo ricorrente in Egitto che pesa il cuore ma anche nel libro dei proverbi allora questo Dio contabile non basta non rende ragione questa immagine della complessità della vita e della della complessità dell'uomo sofferente allora Giobbe deve rifare il suo percorso di studi teologico Giobbe e gli amici perché qualcosa non sta funzionando questa teoria della retribuzione per cui faccio il bene mi aspetto la ricompensa non funziona più non funziona meglio come loro pensavano che funzionasse allora Giobbe deve scoprire il volto del Dio liberatore Yahweh sapete no che è il Dio che si rivela che rivela il nome a Mosè e che significa io sono colui che sono ma anche colui che fa essere chi devo dire Esodo chi mi manda diciamo se io sono il Dio di Abramo di Sacco e di Giacobbe non una astrazione non una idea filosofica neanche una ideologia quando poniamo alla sofferenza all'interno di un quadro prettamente ideologico filosofico di mera disquisizione di teodicea cioè di disquisizione filosofica sul bene e sul male non ne usciamo più ecco il dialogo di Giobbe e gli amici un dialogo tra sordi quando proviamo a trovare un senso alla sofferenza quando entro in una relazione relazione con Dio gli amici e Giobbe in fondo vanno nella stessa direzione io la chiamo illusione ottica hanno loro stesso proiettato su Dio le loro aspettative la stessa aspettativa solo che ripeto l'unica differenza è che uno sta soffrendo e gli altri invece parlano della sua sofferenza della sofferenza di Giobbe non so se mi sto spiegando ogni tanto datemi un cenno so che l'ora è un po' avanzata ma voi al nord siete abituati a questi ritmi noi no insomma al sud a quest'ora si cena più o meno allora no no non scherzo è così allora che cosa succede possiamo dire così che Giobbe deve riscoprire il suo ruolo all'interno della creazione è vero che l'uomo è il vertice del creato ma dopo l'uomo vertice del creato ma il settimo giorno è il giorno pieno della trascendenza di Dio cioè oltre l'uomo c'è Dio allora l'antropologia è fondamentale ma questa antropologia ha un senso solo alla luce di una trascendenza che è legata al giorno pieno appunto di Dio il settimo giorno è il giorno aperto è il giorno che non è stato chiuso è il giorno in cui non si dice fu sera e fu mattina per sei giorni si dice il settimo no quindi è una creazione in divenire allora l'uomo e Giobbe deve capire che l'uomo ha dei limiti capisce se stesso nella misura in cui comprende anche che è una creatura Giobbe vi ho già detto si è montato un po' la testa e quindi ha ingigantito appunto se stesso da far da maestro a Dio deve imparare diciamo così la lezione dell'umiltà ecco dicevo il giorno settimo è il giorno del riposo oltre l'uomo c'è Dio apro e chiudo una parentesi questo ci fa bene da punti di vista anche dell'antropologia dell'ecologia sapete no questo è anche con la laudatosi è un'attenzione grazie al cielo che abbiamo di questi tempi soprattutto con quello che accade nel mondo e soprattutto oltre a oceano è bene ricordarselo l'attenzione al mondo e alla natura all'habitat questa attenzione all'ecologia è in ordine al benessere globale dell'uomo ma noi cristiani facciamo questo discorso perché c'è un benessere che va oltre l'immediato contesto e che rimanda direttamente al progetto di Dio al mondo che è nelle mani di Dio che è opera di Dio e mondo Romani 8 che addirittura partecipa alla libertà dei figli di Dio chiusa parentesi quindi c'è una vocazione trascendente anche della materia della natura degli animali delle piante proprio perché c'è questo progetto di Dio lo giorno del sabato è un giorno iniziato e non si è mai compiuto Giobbe allora che cosa deve riscoprire? beh forse questa domanda non gli farebbe male ecco possiamo dire così Giobbe che è maestro di Israele forse si deve porre questa domanda che cos'è l'uomo perché te ne curi? gli farebbe bene diciamo così volendo dare un consiglio detto in altri termini dal Giobbe Superman che sa tutto che fa da maestra a tutto a tutti ecco Giobbe capisce alla fine che prima ti conoscevo per sentito dire ora i miei occhi ti vedono e cioè non è più ciò che ho studiato sui libri che guida la mia teologia ma è una relazione un contatto uno sguardo un incrocio di sguardi beh qui sta tutta la differenza eh sono serviti 42 capitoli però per arrivare a capire questo quindi morale della faula e mi fermo la teoria della retribuzione è stata soppiantata viene superata viene superata una certa teoria della retribuzione quella del distributore faccio una preghiera e immediatamente voglio la risposta vado al distributore metto il gettone 50 centesimi seleziono la bevanda e mi esce il prodotto questa retribuzione è superata è rivisitata se vogliamo è fatta esplodere perché nella fede non ci sono automatismi la fede è l'incontro tra la libertà di Dio e la libertà degli uomini mistero grande l'uno e l'altro eh l'uno e l'altro quindi che cosa è cambiato ecco viene liberata la retribuzione dei suoi pericolosi automatismi pericolosi vi dicevo prima stai soffrendo ecco il Signore ci ha dato questa grazia questo è pericoloso pericoloso per Dio perché è un Dio che ha quasi bisogno della sofferenza degli uomini questo Dio crudele bullo parafrasando un po' il discorso di Job ma pericoloso anche per chi si sente dire queste parole perché si sente colpevolizzato e queste colpevolizzazioni poi anche all'interno di un percorso di elaborazione della sofferenza bloccano non aiutano a crescere a vivere anche la fase della sofferenza la stagione della sofferenza collocandola all'interno di un progetto più grande ecco io chiudo ma con questa chiusura che è un'apertura vi ringrazio per l'attenzione come vi dicevo Job sfugge sempre è come un'anguilla è come una morena io qualcosa di quello che ho capito su Job l'ho voluto condividere con voi però sicuramente c'è ancora tanto e su questo per le prossime settimane bibliche grazie abbiamo qualche minuto per eventuali domande come le altre sere c'è la possibilità di farle tramite un bigliettino oppure anche venendo su a farle a voce al microfono il tempo c'è quindi approfittiamone intanto leggiamo la prima l'universalismo in Job fa emergere un orizzonte non strettamente ebraico Job e i suoi amici non sono ebrei Job non si rivolge ad Aschen mancano rinvii alla storia di Israele questo cosa comporta? velocemente questo comporta l'universalizzazione della esperienza di Job per questo non è un giudeo per questo viene posto nella terra di Edom Edom contro discendenti di Esau in lotta con Giacobbe discendenti di Giacobbe e Israele Job è il giusto sofferenza sofferente di ogni latitudine e di ogni longitudine di ogni tempo per questo si è voluto dare una connotazione che è extrabiblica per universalizzare la situazione e anche la questione anche De Luca vi ha detto che ci sono esperienze analoghe fuori dalla Bibbia di Job dei Job diciamo così o comunque dei giusti sofferenti seconda cosa la sapienza biblica non sempre richiama le teofanie le alleanze il culto i sacrifici è tipico della sapienza biblica una sapienza un po' più laica che spesso prescinde da quella sapienza classica e si pone accanto alla Torah alla legge ai profeti e nasce da che cosa? nasce più da una riflessione antropologica e questo prescinde dall'immediato riferimento religioso ma non significa che non c'è il riferimento religioso teologico perché i sapienti fanno teologia quando parlano dell'uomo penso ai proverbi i sapienti fanno teologia quando parlano di educazione educare significa fare teologia orientare verso la pienezza della vita quindi questa apparente come dire laicità è un bene beh non è un caso che i libri sapienziali sono stati studiati molto tardi rispetto ai libri profetici e libri del pentateuco perché mancano la teofanie per questo i libri sapienziali sono un po' la cenerentola della Bibbia però voi sapete che ogni cenerentola prima o poi diventa principessa e quindi ora tutti studiano i libri sapienziali siamo troppi siamo troppi che la pace del Signore sia con noi Giobbe per me è stato sempre la persona più cara della Sacra Scrittura prima di tutto è un po' la mia storia della conversione quello ad accettare ogni cosa di contemplare il volto del Padre questo Padre che sembra che nella vicenda della vita ci prende tutto e mi prendeva tutto però seguirlo avveniva quello che avviene a Giobbe a ognuno di noi almeno a me una risurrezione di tutte le cose una contemplazione continua quando i suoi amici elogiano fanno tutte queste cose rivelano la bellezza di Dio per umiliarlo di più per farlo arrendere ma la sua fede nel dolore e la perseveranza porta Giobbe ad essere un eroe uno che contempla la gloria di Dio e così mi accade e mi accadeva fino al punto che lui dopo si rivela Giobbe e gli dice sai mi puoi fare sai tu come stanno le cose questo dice ho detto una parola adesso non parlo più ed è così e io lo ringrazio per tutto questo che fa perché è quello che fa nella mia vita che mi ha portato a contemplare la sua bellezza il suo abbraccio quello di saper perdere tutto e di affidarsi a lui e tutto è risurrezione è una cosa bella che ci porta al canto e alla lode e alla benedizione che il Signore nella sua trinità ci abbraccia grazie grazie per questa condivisione una cosa la colgo da questo bene intervento e cioè il fatto che Giobbe comunque rimane in dialogo magari sparla si dice qui sparlare in italiano però sparlare significa dire parole davvero a vanvera magari prende delle grandi cantonate arriva anche a dire parole pesanti però resta in dialogo allora non chiude mai il dialogo con Dio anche con gli amici in fondo questo mi pare molto importante non chiudere mai il canale della comunicazione anche nella prova rimanere in dialogo provare a trovare una soluzione dopo tante parole tante parole sbagliate alla fine arriva comunque una risposta leggo la domanda intanto se ne avete altre fatele vedere così passano a prenderle tutto il percorso della sofferenza di Giobbe come influisce nella situazione finale in cui a Giobbe viene ridonato molto di più di quello che aveva materialmente perso e io questa domanda la stavo aspettando Giobbe guarisce o no secondo voi sì o no sì qualcuno dice no come? gli ridà tutto e anche di più anche se non tutto viene moltiplicato i figli non vengono moltiplicati raddoppiati cioè allora come dire come quando uno riavvolge il nastro premo rewind torna indietro ritorniamo al punto zero tutto uguale come prima? no io ci ho detto che è cambiato qualcosa anche anzi qualcosa di sostanziale c'è però qualcuno che qualche donna in realtà qualche librista che dice che Giobbe non è guarito allora la Bibbia usa il verbo Shuv cioè Giobbe fu reintegrato reintegrato significa può significare che fu guarito non c'è il verbo Raffa Raffaello ricordate il nome Raffaello significa medicina di Dio non viene curato guarito per cui qualcuno qualche donna Francia Smith e anche Bruna Costacurta solo loro però visto dicono questa cosa qui cioè che manca il momento in cui Giobbe lebroso viene reinserito nella comunità mancando il verbo Raffa curare c'è solo il verbo reintegrare Giobbe non è guarito anche perché teologicamente sarebbe troppo facile poi per Giobbe credere in Dio visto che ha recuperato tutto anche la salute allora a me pare l'idea è che anche nella sofferenza si continua a avere fede in Dio è un'idea giusta mi pare troppo cattolica però questa posizione permettetemi cioè alla fine ecco Giobbe sfugge cosa posso criticare di questa idea è che se è vero che manca il momento della reintroduzione nella comunità perché sapete che un lebroso veniva estromesso veramente manca anche quello dell'estromessione se vogliamo cioè non c'è all'inizio del libro il momento in cui Giobbe viene messo fuori dalla comunità anche se i gesti magari che lui dovremmo ricavarlo da alcuni passaggi che indicano la situazione di Giobbe che è fuori fuori anche dai canoni della religiosità della sapienza classica eccetera quindi manca questo ma soprattutto secondo me la critica più seria è che prologo e epilogo attenzione a non leggerli troppo alla lettera se vogliamo non tutti i personaggi sono ripresi non c'è Satana alla fine non c'è la modi di Giobbe compaiono alla fine i parenti di Giobbe che prima non c'erano allora prologo e epilogo sono come un palcoscenico cui all'inizio compaiono dei personaggi e avviano la storia poi scompaiono alla fine compaiono altri personaggi per chiudere la storia attenzione al letteralismo questa è la mia posizione perché se dovessimo fare attenzione se dovessimo prendere sul serio poi le cose dette alla lettera uno si chiede ma che ci fa Satana nel cospetto di Dio che ci fa è un personaggio all'inizio viene detto che vengono convocati i figli di Dio c'è anche Satana che facciamo ma soprattutto se prendiamo troppo sul serio alla lettera questo Dio che scommette con Satana su Giobbe è un Dio un po' insomma che gioca ad azzardo sulla pelle delle persone quindi attenzione al letteralismo quindi vanno prese queste informazioni con come dire come una narrazione in cui i personaggi sono reali all'interno della narrazione e che permettono di capire il contesto in cui collocare la storia se diamo troppo peso fisico uno si deve chiedere allora Giobbe è esistito o non è esistito la stessa cosa non sappiamo probabilmente non è esistito è una storia edificante un Giobbe sarà esistito forse più di uno nella storia dell'umanità c'è un giusto sofferente che sente un accanimento sulla sua pelle sicuramente questo c'è stato il racconto vi dicevo prima universalizza la condizione dell'uomo che soffre e ne fa un racconto biblico e dà delle coordinate bibliche in cui collocare questa sofferenza è molto molto importante cioè provare a trovare delle risposte bibliche a una condizione che riguarda tutti gli uomini cioè quella della sofferenza non so se mi sono spiegato quindi è guarito o no il testo dice che è guarito è guarito anche perché dico l'ultima cosa chi dice che non è guarito dice che Giobbe è una malattia cronica ma non mortale e vive fino a 140 anni allora se dobbiamo prendere alla lettera anche i numeri ci incartiamo alla grande quanti anni visse Matusalemme 969 è chiaro che lì i numeri servono per estendere e per collegare la narrazione non ci sono buchi nella narrazione di Dio Genesi e qui anche il linguaggio simbolico dei figli dei cammelli indica che cosa la sovrabbondanza della vita che Dio dà quindi torno a dire attenzione al letteralismo che non ci aiuta non ci aiuta nell'interpretare i testi una breve battuta cogliendo uno stimolo che hai dato sul fatto che Dio Giobbe mantiene il dialogo con Dio parla in realtà anche se in terza persona però in realtà è come se in qualche modo chiamasse Dio e si rivolgesse a lui tra l'altro Dio alla fine dice che Giobbe ha parlato bene in qualche modo rispetto agli amici nell'epilogo finale a proposito di questo volevo chiederti questa cosa è forse possibile pensare invece che il genere letterario del tribunale dove Dio assume sia il ruolo del giudice che quello dell'imputato il genere dell'accusa del RIV dove Giobbe in qualche modo in tutto il suo lamento accusa Dio ma in qualche modo nella fiducia che Dio risponda quindi Giobbe certamente maledice e quindi esagera e quindi però nello stesso tempo la sua sapienza è nel fatto che comunque lui sa che Dio gli risponderà insomma comunque lo stimola a rispondere fa un RIV a Dio in qualche modo è una suggestione sì sicuramente conoscete questa categoria del RIV sì avete sentito sì e cioè un dibattito giudiziare in cui la parte offesa chiama in causa la parte che ha offeso non con lo scopo di portarlo davanti al tribunale altrimenti sarebbe un mishpat sarebbe andare davanti a un giudice ma con lo scopo di ristabilire la giustizia questo è il senso quindi Giobbe che intenta un RIV nei confronti di Dio ci sta ci sta tutto questo discorso cioè Giobbe che chiede giustizia per chi si sente leso ecco si sente la parte lesa quindi funziona funziona questo discorso nei confronti del RIV nei confronti di Giobbe l'unica mia perplessità è che effettivamente poi Giobbe sia così certo che Dio risponderà cioè non lo so se questo c'è applicando questa categoria sicuramente si rivolge a Dio perché vuole una risposta questo è poco ma sicuro quindi è interessante questo discorso del RIV e quindi portarlo fino in fondo aiuta a dare anche delle coordinate teologiche sicuramente anche qui sfugge è questo l'unico genere letterario del libro probabilmente no perché i capitoli che riguardano Eliu non fanno parte tant'è che Teodoro di Mopsuestia già parlava del dramma probabilmente come una serie di scene di un dramma prima Giobbe con gli amici poi Giobbe da solo poi Giobbe con Eliu questo giovane saggio che interviene poi Dio con le risposte poi alla fine l'happy end quindi il libro non si fa incastrare in un unico genere letterario proprio perché è molto ricco e San Girolamo aveva sempre ragione insomma che sfugge sfugge abbiamo altre due domande ma voi non andate mai a dormire come funziona eccellenza ma lei li ha abituati davvero bene questi ah sono loro che abitano lei ah ecco l'Italia centrale già siamo stesso clima la stessa aria un accostamento Giobbe Giacomo Leopardi punto interrogativo ci sono dei volumi su questo sì sì è vero ci sono dei volumi che parlano della sofferenza soprattutto del pessimismo di Leopardi che probabilmente nel suo studio amato disperatissimo ha sicuramente letto Coelet e Giobbe quindi ci sono degli studi se volete poi nelle mail vi mando qualche riferimento bibliografico la letteratura italiana è stata influenzata dalla Bibbia e sicuramente Giobbe ha influito molto sulla concezione appunto di una vita in cui la sofferenza seria segna il pensiero la riflessione se volete poi vi mando un'email con qualche citazione biblica questa mi scuso se la leggo male ma l'inchiostro è come la pazienza di Giobbe va e viene quindi ci provo la conclusione del libro ha un senso forse in una visione ebraica mi pare che Gesù abbia una relazione con la sofferenza di vicinanza e di amore non di creazione e di potere si è letta bene creazione e potere non so se ho capito bene però sicuramente manca a Giobbe ecco non possiamo chiedere a Giobbe più di quello che Giobbe non può dare l'orizzonte ultraterreno può sembrare strano però la Bibbia dell'Antico Testamento tranne qualche sprazzo qua e là non ha una chiara visione positiva dell'aldilà cioè c'è lo Sheol che sono gli inferi non l'inferno l'inferi dove vanno tutti alcuni ci vanno e stanno più o meno tranquilli e riposano con i padri altri come dice Coelet nello Sheol non c'è niente c'è l'oblio c'è l'oblio sicuramente lo Sheol non è il luogo ideale in cui si avverano le promesse cioè non è il luogo il nostro paradiso in cui uno trova tutto quello che su questa terra se vogliamo ha investito allora questo non c'è e non possiamo chiedere a Giobbe questo surplus abbiamo già chiesto tanto possiamo già chiedere tanto a Giobbe questo però non c'è come vi segnalavo velocemente prima all'orizzonte sul terreno si ha con alcuni testi sempre della sapienza tipo Sapienza 3 in cui esplicitamente si parla delle anime dei giusti che stanno nelle mani di Dio Sapienza 3 le anime Psyukai solo dei giusti quindi non è ancora la piena risurrezione è solo un primo passaggio verso l'aldilà c'era l'idea della risurrezione anche al tempo di Gesù ma una risurrezione come quella di Lazzaro come quella del figlio della vedova di Nain come la figlia di Jairo una risurrezione come rianimazione del cadavere cioè uno è morto torna in vita come Lazzaro Lazzaro poi muore di nuovo quindi due volte quel poverino non una volta ma due quindi c'era questa idea come rianimazione la risurrezione di Cristo è un'altra cosa è compimento dell'uomo è spiritualizzazione del carnale è spirituale dove si semina carnale dice Paolo quindi è una realtà che è materiale ma di una materia che va oltre le leggi della natura è oltre la fisiologia naturale del corpo quindi questo Giobbe non ce l'ha evidentemente Cermico c'era un intervento qua prenotato poi Sì più che una domanda non so come chiamarlo un invito a tornare un momentino anche se non era l'argomento tuo Don Sebastiano su Giobbe capitolo 19 versetti chi ha la Bibbia sotto mano 21 dunque 22 23 ecco poi soprattutto 25 ripeto capitolo 19 le leggo rapidamente pietà pietà di me almeno voi miei amici perché la mano di Dio mi ha percosso perché vi accanite contro di me come Dio e non siete mai sazi della mia carne o se le mie parole si scrivessero se si fissassero un libro fossero impresse con stilo di ferro sul piombo per sempre si incidessero sulla roccia ecco il punto io lo so che il mio vendicatore è vivo e mi pare che San Girolamo qui traduceva il vendicatore con redentore redentor meus vivit ecco e che ultimo si aggerà sulla polvere dopo che questa mia pelle sarà distrutta senza la mia carne vedrò Dio io lo vedrò io stesso i miei occhi lo contempleranno non da straniero questo passo si interpretava in senso neotestamentario cioè anticipato trovando quella fede nell'aldilà nella resurrezione che al tempo di Giobbe appunto come tu hai appena detto era anacronistica quindi non era ancora affermata per cui io ho studiato il libro di Giobbe con un certo padre John Vella Maltese non so se tu l'hai incontrato la sua tesi di laurea che lui ha fatto con l'ionnè al biblico lui sosteneva appunto il genetario del RIV adesso io non entro su questo però mi serve per dire come dobbiamo stare attenti io non vorrei complicare la vita a nessuno per carità però uno dei vantaggi che uno dei frutti che ci sta dando la settimana biblica di quest'anno è che mi sembra che sia una delle luci più marcate che ci vengono del libro di Giobbe attenzione a non fare i sapientoni su Dio perché inevitabilmente noi incorniciamo Dio nei nostri schemi e ne viene fuori un'idea scontata si comprendis non est Deus se tu lo capisci significa che non è Dio significa che non hai capito cioè perché Dio è trascendente allora qui il vendicatore non è il mio redentore quindi è Gesù ma è il mio difensore che è contro di te Dio cioè te lo farà vedere lui ci sarà uno che mi difende contro di te e quindi mi pare che siamo sempre in linea con questa idea di Giobbe che non si rassegna ad essere trattato così da Dio dopo che questa mia pelle sarà distrutta senza la mia carne vedrò Dio dove vedrò Dio e glielo farò vedere proprio quando lo vedrò perché adesso Giobbe parla con Dio ma non non lo vede allora questo mi fa ripetere quello che dicevo poco fa cioè noi rischiamo davvero grosso io ritengo che noi cristiani cattolici spesso veicoliamo un'idea di Dio per esempio della volontà di Dio che è pagana che non è cristiana non è quella di Gesù Dio vuole il nostro bene non vuole il nostro male ma quante volte noi chiamiamo in causa la volontà di Dio quando arriva la malattia quando arriva l'incidente quando arriva la morte questa è volontà di Dio io penso dobbiamo liberarci da queste idee che sono ripeto pagane Dio vuole il bene Dio vuole la vita e nel dolore Dio non sta lì a castigarmi neanche a giudicarmi ma sta lì a sperimentare con me la mia debolezza e ad aiutarmi a lasciarmi travolgere dal male questa è l'idea di Dio non lasciatevi vincere dal male dice Paolo ma vincete il male con il bene cioè con un bene più grande più grande del male non so c'è una domanda in formulazione credo ah è scritta si può dire che la figura di Job nella sua sofferenza totale e dirompente è una figura talmente necessaria nell'antico testamento per uscire dalla logica sempre e necessariamente retributiva di Dio e prefigurare la figura del servo sofferente aprendo all'immagine del Cristo di un messia diverso dalla mentalità ebraica beh sì sicuramente l'interpretazione cristologica di Job come di Giuseppe come di Isacco ha portato i partiti della Chiesa a leggere questi testi nella logica appunto soteriologica cioè sono anticipazioni tipologiche di quello che è sacrificio di Cristo e quindi il sensus plenior della scrittura cioè leggere il testo primo passaggio antico testamento leggo il testo quello che dice poi posso anche leggerlo come hanno fatto gli autori del nuovo testamento guardando a Cristo però rispettando anche il passaggio cioè non svuotandolo subito quel testo biblico altrimenti chiudiamo l'antico testamento e leggiamo direttamente il nuovo pace invece l'antico testamento ha una forte carica anche spirituale come questi giorni vi stare accorgendo ed è molto più complesso per tanti aspetti rispetto al nuovo testamento bypassare questo saltare a pie pari questo non rende ragione evidentemente di tutta questa ricchezza di questo patrimonio che è ebraico sostanzialmente e che resterebbe al di qua anche delle nostre possibilità questo non significa che noi non possiamo leggerlo anche nella prospettiva del nuovo testamento ripeto gli autori del nuovo testamento hanno fatto questo e si chiama appunto interpretazione tipologica i padri della chiesa lo hanno fatto in maniera allegorica allora quando questo non funziona più quando leggiamo tutto l'antico testamento in chiave allegorica e solo prefigurativa del nuovo testamento come dicevo prima se leggiamo così tutto l'antico testamento solo come anticipazione del nuovo non stiamo rendendo ragione alla carne e al sangue delle storie raccontate nell'antico testamento che sono e vanno rispettate anche nella loro distanza anche linguistica storica culturale e religiosa rispetto a quello che noi siamo non dobbiamo immolare insomma l'antico testamento non è necessario immolarlo al nuovo parla da solo già parla anche in rapporto a Cristo sicuramente e come vi dicevo noi aspettiamo una redenzione cioè una retribuzione anche noi l'aspettiamo alla fine si è spostato nell'aldilà ma anche noi aspettiamo una retribuzione ultraterrena alla fine dei tempi c'è già una retribuzione immediata e poi alla fine attenzione a non ricadere nell'errore degli automatismi e del gettone che mi dà il caffè perché anche noi potremmo fare il bene per andare in paradiso questo è un bel guaio perché ci potrebbe essere anche un tornaconto spirituale un narcisismo spirituale chiamatelo come volete quindi la logica retributiva non è stata superata è stata sicuramente trasfigurata con Gesù Cristo trasfigurata se non ci sono altre domande allora ci avviamo alla conclusione è solo un avviso e due ringraziamenti l'avviso che si sono raccomandati fortemente di non dimenticare la settimana biblica andrà in onda tutti i martedì a partire dal 3 ottobre alle 21.10 sul canale 91 Icaro TV il primo ringraziamento permettetemelo è per un caro amico Don Davide Arcangeli che in conclusione della settimana fa ringraziamenti a tutti e rischia poi di non prenderseli lui perché so con quale impegno prepara la settimana biblica ed è veramente generoso e competente grazie è timido non voleva ma se lo merita la grande e ci tenevo quindi il secondo per Don Sebastiano perché ci ha dedicato le sue competenze e tanto tempo visto che il viaggio di oggi da Bari non è tra i più semplici ma ancora di più Don Sebastiano è tifoso della Juventus e questa sera c'era la partita di Coppa credo che sia una nota molto molto positiva ha vinto controllo se ha vinto insomma non so se qualcuno dice 2 a 0 ha vinto speriamo sia vero bene con questo grazie Don Sebastiano grazie a tutti a domani sera per la serata conclusiva grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti